Buongiorno a tutti, benvenuti. Benvenuti, ho il piacere di coordinare questa discussione sulle parole nuove, un problema antico, vincoli e libertà della lingua nel mondo che cambia. Con me sono Cecilia Robustelli, professor Canfora e l'autore del libro che ci dà lo spunto di ciò di cui parliamo oggi. Allora, si tratta di un libro che rilegge 60 anni di storia italiana e come si vede da questo cappello escono già delle parole che sono state molto discusse ultimamente, però io mi vorrei soffermare prima sul sottotitolo, Neologia e neologismi nell'Italia che cambia. L'autore, Cardinale, è stato per un'ottantina di pagine linguista e storico della lingua e ha toccato anche l'antichità. E poi, a partire dalle pagine successive, si è trasformato in storico attraverso le parole. Non è la prima volta che Cardinale si occupa di parole nuove e vedete qui un libro pubblicato dalla Löscher che lui ha curato insieme a Maglio Cortelazzo. Io ho scelto di far vedere le trasformazioni dell'atteggiamento di Cardinale e anche un po' di tutti noi che ci interessiamo ai neologismi attraverso la parola pezzo. Allora, in questo dizionario di parole nuove, quello che balza all'attenzione dal punto di vista del nuovo significato di termini molto antichi è il pezzo di carta relativo al diploma scolastico e già si vede lo stile che Cardinale attribuisce all'allenamento a cui l'ho sottoposto Maglio Cortelazzo, ma che mi pare abbia fatto un ottimo lavoro perché anche da solo continua a fare una schedatura eccezionale, e cioè citare questi significati nuovi di parole antiche e di combinazioni di parole servendosi sia della letteratura che dei giornali, come vedete. Più tardi, nel 2012, sempre con Maglio Cortelazzo e per Rubettino, ha pubblicato il dizionario antologico italiano fondamentale con 11.500 lemmi. Qui, essendo un dizionario, pezzo contiene anche varie altre cose, ma si vede come la fraseologia cominci a volgere verso pezzo nel senso di opera e soprattutto articolo di giornale, per esempio. Vedete un numerino al fondo di questo articolo, di questa voce, ed è il rango di frequenza di questa parola, da sola ovviamente, perché siamo nel 2012, diciamo, siamo sotto legida de mauriana e poi con fondamentale nel titolo uno si sente appunto obbligato a dire qualche cosa sul rango delle parole. E poi arriviamo al 2021. Qui io ho riportato il significato di stare sul pezzo, che è, almeno a quanto ci dice Cardinale, ma credo che anche i presenti lo vedano, un'evoluzione più recente della parola pezzo con stare sul pezzo, appunto. E qui abbiamo la spiegazione che ne dà Rita Ribrandi nella consulenza linguistica dell'Accademia della Crusca nel 2017, dove si spiega il passaggio dalle officine al pezzo giornalistico e al significato di stare sul pezzo, come stare attenti all'argomento che importa. E come vedete non ha più la forma di una voce di dizionario, ma appunto ha adottato, Cardinale, la narrazione, anzi, per parlare di una delle parole che esamina nel libro, storytelling, perché il libro non è un dizionario, per l'appunto, è, come si vede dall'indice, che ho qui brevemente riportato. Nei primi tre capitoli affronta prosasticamente, non con dei lemmi, ma proprio parlando, il problema di come nascono i neologismi, fa vedere appunto come sono fatti. Io mi sono permessa, e spero che la casa editrice non sia d'ombri, di aggiungere qualche cosa alle parole che escono dal cilindro, cioè aggiunto narco, poli, bio, avrei potuto aggiungere eco, ma poi non mi stava. E proprio per far vedere che c'è questo cuore antico che continua a essere molto presente nei neologismi italiani. Però, in questa parte iniziale, intanto si pone il problema col punto interrogativo e non dà una vera risposta sull'esistono autorità regolatrici. Si tiene molto prudente su questa cosa. parla degli elementi di composizione agricolatina e poi parla dell'accorciamento, che è una cosa che spesso ci dimentichiamo, ma che invece, soprattutto anche a causa del linguaggio giovanile, ma anche a causa dell'influenza dei vicini, i francesi in particolare, che abbreviano molto, sta prendendo piede, in caso specifico il flebo, ad esempio, che nel linguaggio giovanile vuol dire riunione o, appunto, incontro che ti ha veramente annoiato, no? Se c'è stata un flebo. Ecco. Poi c'è l'unità multilessicali, di cui tendiamo anche a non renderci conto, ma in realtà sono adesso la gran parte dei nuovi significati di parole, quindi, ad esempio, cabina di regia, per farne una. E poi un'altra cosa che a noi nativi, noi italofoni, anche di una certa età, se mi consentite, spesso non appare una forma di neologismo, ma che invece agli stranieri appare moltissimo, e cioè la trasformazione di categorie grammaticali. Noi siamo già coloro che, fra i parlanti di lingue neolatine, sostantivizziamo di più l'infinito. In assoluto siamo quelli che usiamo di più l'infinito, pur avendo molti altri modi di derivazione, con suffissimento, in suffissinzione, di fare dei nomi di processo, però a volte decidiamo anche che fra il lavorare e la lavorazione c'è una bella differenza e quindi usiamo tutte e due. E in questo siamo abbastanza originali, però facciamo anche molto uso, ultimamente, di questi participi passati sostantivati, come ad esempio il vissuto, che poi sono anche parole molto difficili da tradurre, ve lo dico per esperienza, nelle altre lingue, perché bisogna proprio cercare di capire che cosa è il vissuto e cercare di renderlo. Poi naturalmente, invece, una cosa molto antica e che ci fa piacere ci sia sempre, le figure retoriche. E poi ho voluto mettere per ultima questa che lui ha chiamato, callidamente, risalita dal dialetto, e anche forse, date le sue origini, ha deciso di prendere il termine, cazzimma questo termine che la televisione sta contribuendo a diffondere e che aveva all'inizio un significato piuttosto negativo a casa sua, voglio dire, dove è nato, ma che, spostati, 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 ultimamente è diventato quasi, in bocca a persone che non ne conoscevano l'uso originale, un positivo termine per spirito di iniziativa, diciamo così, ecco. E poi abbiamo appunto questi 60 anni. E oggi siamo qui in compagnia di Robustelli e del professor Canfora per passare un po' attraverso a queste cornici sociopolitiche che cambiano, che vanno dal capitolo quarto al capitolo quattordicesimo e adesso non le sto a elencare, ma vorrei intanto proprio chiamare in causa l'autore perché ci spiegasse che cosa di antico c'è nei neologismi. Ma sì, c'è molto di antico, anche se, come dire, il termine neologismo, ecco partiamo da qua, è il termine neologia che ci farebbero pensare così a sillogismo da una parte, paralogismo dall'altra parte, ad analogia, ad autologia, quindi ci potrebbero far pensare a una derivazione dal greco. In effetti si tratta di un termine che è nato e si è diffuso nel diciottesimo secolo, quindi nel 1700, nell'epoca dei Lumi, con un significato negativo, nel senso che il neologismo era un'affettazione salottiera nel modo di esprimersi, nel modo di parlare, e neologia fu opposta al neologismo qualche lustro più tardi, ecco, con il significato di innovare nell'uso del linguaggio. sta di fatto che poi nel secolo successivo il neologismo si è un po', come dire, liberato da queste incrostazioni negative ed ha acquisito il significato corrente che oggi ha, mentre neologia, mentre prima era più diffuso come termine, è diventato meno diffuso e oggi indica un po' il quadro di riferimento teorico entro cui inquadrare i neologismi. Ma la preoccupazione del neologismo è una preoccupazione antica, perché in fondo, non so, anche per esempio dopo i sofisti, Teofrasto in un libro di cui ci rimangono pochi frammenti, come dice Canfora, poi dobbiamo vedere cosa ci rimane dell'antichità, ecco lì dava dei consigli sull'uso pertinente delle parole nuove e poi certamente non uso dire neologismo perché ecco, anticamente per Platone e Plutarco usano il termine caenotomia cicerone novatum verbum nova fictaque nu per verba Orazio e così di seguito. Ecco, ma la problematica del neologismo e della neologia è certamente affrontata con competenza nell'antichità. Ecco, lascio la parte relativa alla cultura, alla lettura greca, poi all'oceano Canfora, ma in ambito latino, diciamo, basta già partire dalla retorica del neum per capire che era obbligatorio adottare quella che loro chiamavano la explanatio e quindi la chiarezza e l'apertura e con il consiglio di non usare troppi neologismi o arcaismi o traslati che rendono poi il linguaggio lontano dalle cose, le parole lontane dalle cose. E poi Varrone affronta il problema in maniera della lingua latina in maniera abbastanza organica però nell'ambito della consuetudo. Quindi secondo Varrone si poteva e certamente si potevano adottare neologismi anche arcaismi eccetera ma come dire nel rispetto della tradizione quindi razione razione introductum quindi noi potevamo introdurre neologismi ma nel rispetto come dire del sistema linguistico di riferimento. Solamente ai poeti era consentito andare al di là delle linee di demarcazione ecco li uso un termine desunto dal linguaggio dello sport transilire linea si impune cioè a dire si poteva andare al di là delle linee che demarcavano l'ambito entro cui si svolgeva la competizione e questo era consentito soltanto ai poeti. Ecco chi poi veramente ha compreso forse in maniera come dire più vicina forse al nostro modo di impostare i problemi linguistici perché poi la neologia è uno dei problemi più scottanti della linguistica ecco e Quintiliano Quintiliano il quale intanto riflette sul fatto che la lingua colta la lingua intellettuale ecco di Roma ha perso mordente e soprattutto non ha più quella capacità che riuscivano ad esprimere le parole onomatopeiche di una volta sempre noi cerchiamo di recuperare quello che ci ha preceduto e quindi Quintiliano suggeriva di osare audere e questo era un consiglio dato sia ai poeti sia agli oratori nel senso che potevano come dire coniare parole nuove per attraverso la composizione e attraverso la derivazione in diceva in derivando proprio come per dire le meccanismi che usiamo ancora oggi ecco che sono quelli dalla derivazione della composizione oltre ad altre come dire altre diavolerie cioè usiamo degli strumenti interni alla lingua elementi di cui la lingua già dispone per innovare la lingua stessa poi un altro modo è quello di assumere come dire parole da altre lingue quindi in jugendo in derivando composizione e derivazione ecco naturalmente nel rispetto sempre del sistema linguistico di riferimento questo è importante perché poi magari Robustelli ci dirà ecco è importante ancora oggi quando come dire tiriamo in ballo delle proposte che stravolgono il sistema linguistico dal punto di vista morfologico per esempio non si tratta solo di parole nuove ma di elementi che andrebbero a stravolgere il come dire paradigma della lingua italiana bene allora poi c'è anche ancora Fruntone che si occupa del problema e Fruntone però rispetto a Quintiliano è d'accordo con Quintiliano sulla povertà della lingua latina colta ma mentre Quintiliano dice che c'è bisogno anche di riempire dei buchi Fruntone invece infronta il problema da un altro punto di vista e dice che è un problema di espressione quindi consiglia di recuperare anche il volgarismo perché recuperando il volgarismo quello come dire le parole cioè usate dagli illetterati e dagli ignobiles ecco si può fare una operazione come dire di macchiaggio diremmo adesso e quindi di una operazione per cui questo volgarismo poteva diventare una parola elegance se non addirittura un arricchire il vocabolario come parola nuova ecco quindi come vedete la preoccupazione degli antichi sul problema neologico è una preoccupazione consistente solo che loro non avevano gli strumenti che forse abbiamo noi oggi nella linguistica moderna e contemporanea per arrivare a conclusioni che sono un po' più spinte che ci fanno capire che un sistema linguistico se non è alimentato dai neologismi rischia la sclerosi quindi il rapporto tra sclerosi e cambiamento è estremamente delicato quindi niente xenofobia e niente xenoforie e quindi xenofobia da una parte è da evitare la xenofobia ma anche la xenofilia è da evitare e quindi dobbiamo trovare un equilibrio molto molto delicato ma questo è veramente il cuore della neurologia all'interno della riflessione linguistica grazie scusate c'era una diapositiva in cui avevo chiamato l'introduzione del professor Canfora e la richiamerò qui brevemente Canfora parte da Lucrezio e poi da Plinio il giovane che si rifà a Lucrezio che si lamentano della povertà degli antichi nei confronti della necessità di parlare dell'atomismo greco poi passa attraverso Cicerone e si aggancia al problema del fatto che Cicerone era ben conscio che non si trattava solo di parole cioè che questi prestiti e la filosofia che ci stavano dietro non sono neutri quindi si preoccupava che inquinassero l'idea romana di stato eccetera eccetera per poi passare sempre nella sua introduzione a Machiavelli di cui lei cita un pezzo del dialogo sopra la lingua in cui c'è un termine che anche nella nell'indice era stato ripreso che era quello del imbastardimento della lingua no? Machiavelli parla proprio dell'imbastardimento della lingua che all'inizio quando prende parole nuove si arricchisce e piace la cosa ma poi quando sono troppe alla fine non si sa più cosa sia però fa un'osservazione molto interessante cioè che dice nel corso di secoli nel corso di secoli e la gente non se ne accorge e alla fine ha qualche cosa che non è più la sua lingua quindi lei ha trattato questo pochissime pagine ci ha dato quest'idea importante però del fatto che il prestito non è neutro non è neutro no? e attraverso tutti questi 60 anni anche noi abbiamo visto in particolare un suffisso che stigmatizza il non neutro di una parola nuova che è ismo a qualunque cosa uno lo applichi questo ismo in realtà a parte forse meccanismo quelli dell'origine ma soprattutto se poi c'è un nome proprio diventa qualcosa di negativo no? quindi gli ismi sono in un certo senso la creatività della lingua in derivando però non sono neutri lei pensava al populismo evidentemente no? che è una parola molto usata no? quasi come la clava di Eracle no? viene usata che è uno strumento pericolosissimo peraltro ma viene usata non così per un capriccio ma metà per incultura per ignoranza e metà per ipocrisia quindi è un capolavoro a suo modo no? il fatto che sia adoperata anche da figure politiche minori o minime non toglie nulla alla velenosa ricchezza diciamo di questo termine perché dicevo per ignoranza per ignoranza perché in realtà il populismo è uno stato una corrente politica e culturale della Russia pre-rivoluzionaria movimento importantissimo che ha influenzato anche gli sviluppi successivi alla fine dell'impero zarista e peraltro nella cultura statunitense su tutt'altro versante con altrettanta pertinenza a situazioni storiche precise e definite con tale termine senza alcun intento negativo questo sul piano della ignoranza del passato che però pace insomma noi sappiamo che ci sono tanti pedagogisti che spiegano che studiare la storia fa male alla salute anche dei bambini dei ragazzi quindi li perdoniamo il fatto che politici di varia classe di età siano così ignoranti l'ipocrisia consiste nel fatto e che è la cosa se vogliamo più fastidiosa di non osar di dire che le esigenze popolari ci fanno schifo e quindi le bolliamo con un termine che per convenzione stabiliamo essere negativo e le condanniamo quindi se lei pensa che il grande Michelet scrisse un libro intitolato Le Peuple un capolavoro storico sostanzialmente girondino di simpatie sue però con grande rispetto per Robespierre eccetera Marat ha fondato un giornale che si chiamava La Medio Peuple che poi fu ripreso durante la comune parigina rinacque la testata La Medio Peuple va bene quindi è difficile prendere di petto il concetto di popolo e dire che ci fa ribrezzo allora si dice populismo e non si capisce bene che cosa concretamente si voglia dire se non tutto ciò che io non voglio va bene quindi è un neologismo in realtà vecchio perché è una parola vecchia ma ripresa con questi connotati che ho cercato di descrivere è usata terroristicamente per ora la cosa riesce non c'è giornale ben pensante che non adopere questo termine per atterrire i suoi lettori per esempio quindi è riuscita l'operazione però a parte questo uso che ci dà molto fastidio nel senso che è quotidiano è incombente poi viviamo anche in un periodo direi un po' difficile per tante ragioni ma reso ancora più fastidioso da vivere per il lavaggio del cervello che ci viene fatto per cui non c'è notiziario che non parli sempre delle stesse cose non c'è incontro televisivo che non parli sempre delle stesse cose con lo stesso tono si chiamava lavaggio del cervello io mi ricordo quando ero un ragazzo si diceva ma questi comunisti fanno il lavaggio del cervello ed era proprio il dedecus massimo ora lo stiamo subendo in questo lavaggio la parola populismo campeggia però si possono avere anche esperienze diverse da questa che ho descritto sommariamente così come molto rilevanti sono le varie osservazioni che abbiamo sentito prima non so se mi devo ancora tenere a lungo sul populismo ma forse sì o meglio sui coni simili perché effettivamente è un caso particolare di un fenomeno più generale che è quello di inseguire o coniare o importare un termine oscuro che nasconda un concetto molesto da far deglutire per esempio spending review questo era nel governo Monti era la bandiera e molti si affiliarono a questa corrente la quale propugnava qualcosa di cui oscuramente intravedeva il significato ma che in realtà era un significato molto aspro nel contenuto concreto ma detto nella lingua della perfida albione come la chiamava il luce passava inosservato altro fenomeno un po' diverso se vogliamo ma alla fine delle fini molto vicino credo che nel nostro presente così ricco di novità così denso di informazioni noi viviamo in un tempo apparentemente informatissimo proprio questo elemento della ricchezza di informazione cancella rapidamente le informazioni appena passate di qualche mese non parliamo poi di qualche anno addirittura ma per esempio in un'epoca non tanto lontana ci fu un governo nel nostro paese capeggiato da un politico tuttora molto attivo che si chiama Renzi presidente del consiglio il quale per finalità sue si possono giudicare bene o male questo non è il nostro compito inventò una forma di donativo famosi mi pare 80 euro o 60 non mi ricordo 60-80 la memoria comincia ad essere intaccata con un'esclusione e nessuno capì quale fosse questa esclusione gli incapienti e tutti fingevano di sapere ovviamente non gli incapienti per questo è chiaro ora in questa medesima città che è ricca di cultura e di tantissime belle iniziative c'è anche il Salone del Libro il Salone del Libro credo sia uno dei più importanti nel continente europeo mi capitò per caso di dibattere con l'allora direttore del quotidiano La Repubblica che allora non so se ancora adesso era quasi un organo ufficioso del governo non era proprio la gazzetta ufficiale che è uno strumento molto vicino e al direttore di questo giornale il quale essendo direttore di un giornale doveva sapere bene spiegare gli eventi politici le parole politiche eccetera chiesi ma secondo lei cosa vuol dire incapiente e lui rimase dice veramente non lo so ecco e poi si potè dire che in realtà è un termine che riguarda coloro i quali sono in tale povertà che non gli si può neanche pignorare quello che hanno perché non basterebbe assanare il debito nel quale sono in corsi quindi i postremi o come direbbero gli ecclesiastici gli ultimi quindi la cosa paradossale è che quel provvedimento escludeva proprio le persone alle quali magari era giusto destinare quella piccola somma però detto in quel modo non dava un frisson a nessuno perché tutti deglutivano il fatto che ovviamente gli incapienti erano fuori ecco questo è un altro esempio di linguaggio sapientemente c'è sempre qualche ufficio studi che aiuta poi questi signori solo Pio XII si scriveva i discorsi da sé li imparava a memoria e li recitava magnificamente ma era un grandissimo oratore Pio XII poi magari discutibile come pontefice per altre ragioni questi no hanno dei ghost writer di vario tipo alcuni sono anche noti che fanno talvolta o per ingenuità o per perfidia uno scherzo al loro principale perché gli infilano concetti o parole di cui costoro non sarebbero propriamente padroni ecco va bene però la situazione forse migliora col tempo un altro termine e poi la smetto di cicalare con ismo credo che sia totalmente dimenticato però è sintomatico gingoismo non si usa più in realtà però c'è un libro un vecchio volumetto Feltrinelli è la traduzione di un libro inglese di un tale Osborne uno dei tanti Osborne portatori di questo nome intitolato il gingoismo allora non è un fenomeno trascurabile il gingoismo è il termine veniva adoperato coniato sul ritornello di una canzone popolare gingo che vuol dire più o meno vai al diavolo più o meno questo all'incirca allora il gingoismo è il termine veniva usato dai sindacati inglesi per indicare quella parte del ceto operaio benestante rispetto a parti meno benestanti totalmente insensibile al fenomeno l'impero sfrutta le colonie e quindi noi stiamo benino questa parte diciamo del movimento sindacale insensibile a un problema molto serio molto grande ma anche molto difficile da affrontare come quello del piccolo benessere dei ceti popolari di un paese imperiale che ha come la vecchia Atene aveva gli alleati da sfruttare e quindi il demo stava benino più o meno in piccolo era la stessa cosa quindi da parte avversa a questo ceto alto benestante all'interno della classe operaia si adoperò quella canzoncina per dire voi siete gingoisti cioè mandate al diavolo gli altri ormai si è perso completamente ma non si è perso il fenomeno però quindi questo da ben sperare che alcune parole torneranno probabilmente e speriamo che siano capite così come al tempo loro erano capite ed erano oggetto di polemica mi fermo perché altrimenti sproloquiamo all'infinito parleremo una volta della parola elezionismo però la spieghiamo dopo avresti un ismo avrei un ismo prego allora l'ismo che più mi viene in mente è un ismo che circola moltissimo e come l'ismi di cui ha parlato lei secondo me non lo si capisce appieno ed è binarismo termine nel quale non entrano i binari come si potrebbe pensare immediatamente ma entra tutto un modo di riflettere sulle questioni di genere e così via delle quali eventualmente partiremo e alle quali accenna Cardinale nel suo libro e che forse così per questa sua fonetica e per questa sua forma che ricorda parole familiari appunto come binario cosa c'è di più familiare in tre non ce ne andiamo tutti è stato accettato senza colpo ferire però suscitando insomma un po' di interrogativi e così sono anche entrate nella lingua italiana moltissime parole moltissimi neologismi che rappresentano prestiti integrali cioè sono entrati così come erano nelle lingue di provenienza e quasi esclusivamente nella lingua inglese fra queste la parola più pericolosa è gender gender che in italiano traduciamo come genere ma che viene poi diventato oggetto di una confusione terminologica che ha portato anche a quella serie di interventi sulla lingua italiana ai quali accennava cardinale all'inizio nel suo discorso iniziale diceva ci sono dei problemi che derivano anche da una errata comprensione e circolazione di questi termini ma sul binario del genere Marello se vuoi posso continuare anche più tardi sì io ti volevo appunto chiamare in in causa a proposito dell'inglese perché Robustelli scrisse tempo fa e ha fatto una riedizione del 2007 ha in animo una terza edizione di una grammatica dell'italiano per inglesi che è scritta in inglese è una grammatica appunto che cerca di spiegare una lingua piena di morfologia come l'italiano agli inglesi che invece di morfologia ne hanno molto poca e quindi sei la persona più adatta secondo me a parlarci un po' di questo problema dell'adattamento del prestito cioè perché è diffusa l'idea che l'adattamento del prestito in fondo è un male minore rispetto al prestito integrale perché veste di morfologia insomma hai voglia di parlare un po' di questo sarebbe un male migliore se lo si sapesse fare ma siccome molto spesso le soluzioni propose sono un po' traballanti allora la cosa diventa difficile dunque questa grammatica in effetti ha dato spunto a una serie di riflessioni anche di tipo lessicale oltre che morfologico ma perché è una grammatica di riferimento quindi è una grammatica alla quale si fa il riferimento come una piccola enciclopedia diciamo così per trovare le spiegazioni di fatti linguistici e anche un ulteriore difetto cioè è stata scritta da due persone che hanno studiato linguistica perché oltre a me per la parte italiana è stata redatta da Martin Maiden che è un linguista romanzo di grande notorietà questo fa sì che sia una grammatica che pone molti dubbi e questi dubbi quando vengono alla mente arrivano a persone che consultano questa grammatica sperando di trovare come imparare l'italiano come andare a fare la spesa perché questo è un po' l'equivoco in paesi dove parlando in modo molto generale lo studio della grammatica non rappresenta un'attività frequentissima e approfondita se non altro nelle scuole per le università i corsi specialistici sono un'altra cosa ovviamente ma per il grandissimo pubblico noi in Italia siamo tutti ammalati di grammatica perché niente stuzzica di più un parlante o una parlante italiana di quanto possano fare delle curiosità grammaticali ma in Inghilterra questo o negli Stati Uniti è un po' meno allora uno dei problemi appunto che è stato sollevato dalle persone che hanno scritto facendo appunto integrazioni commenti su questo lavoro è stato come mai in italiano avete tante parole in inglese avete una lingua così bella così ricca avete una morfologia agilissima avete tutte tutti i significati tutte le parole per tutti i significati che volete esprimere perché continuate invece a prendere a prestito dalla nostra lingua in modo aggiungo io ma forse posso anche dire aggiungiamo noi a volte un po' maldestro dei termini che potreste benissimo costruirvi da soli ecco io credo che a questo interrogativo mi sembra proprio che dia risposta in tutto il suo libro Ugo Cardinale perché Ugo Cardinale motiva e lega l'ingresso dei neologismi tra cui anche tante parole straniere a particolari situazioni politiche culturali di costume che si sono via via create nel nostro paese e un momento mi sembra uno snodo principale di questo momento è avevo mi ero segnata il punto sono gli anni ottanta perché gli anni ottanta vero sono aiutami con il capitolo guardiamo così se trovo da leggere proprio avevo sì 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 ma è un periodo in cui la lingua cito a memoria e maldestramente una frase di De Mauro in cui la lingua della comunicazione politica per esempio si distacca dall'ingrigimento tradizionale la lingua era grigia era una lingua che tendeva a livello più aulico tendeva alla serietà alla compostezza quando improvvisamente con gli anni ottanta improvvisamente ma in seguito a una ovviamente meditata riflessione su quello che poteva essere l'effetto di un altro tipo di comunicazione si arricchisce di tutta una serie di nuovi vocaboli per esempio vocaboli di lingue specialistiche tu metti in evidenza il linguaggio del calcio il dribbling da cui abbiamo dribblare come dicevi tu all'inizio abbiamo dribblato abbiamo tutta una serie poi di forme verbali che nascono in realtà da un termine inglese che viene riadattato alla lingua italiana e questo è un procedimento frequentissimo in tempi molto recenti io sono stata colpita da due neoformazioni italiane cioè da due prestiti adattati uno dei quali si lega a un fatterello che mi è successo due giorni fa con una mia collaboratrice alla quale avevo chiesto di far circolare un determinato avviso e mi fa stia tranquilla prof l'ho spammato benissimo io confesso che l'ho spammato benissimo io avrei voluto dire l'ho spalmato benissimo insomma foneticamente non è difficile questa assimilazione invece no l'ho proprio spammato da spam io arrivavo fino a capire l'ha twittato troppe volte ma l'ha spammato francamente mi era un uovo quindi adesso l'ho imparato ma sapevamo già benissimo downloadare filerare eccetera scaricare che adesso ha preso in italiano però un significato completamente diverso perché se dico a qualcuno l'hai scaricato nessuno pensa più a un pacco dalla macchina ma tutti pensano a un file del computer quindi è una bella macedonia e anche macedonia per le parole ha un significato tecnico di rilievo con la quale però ci dobbiamo confrontare e devo dire che questo lavoro ci aiuta molto grazie a me piacerebbe riprendere un po' la questione della metafora no? perché in fondo le neologie e l'ha dimostrato anche adesso in fondo con scaricare no? ci stiamo arrivando cioè quelle che spesso solo se si ha una certa età e si ricorda un periodo in cui la parola aveva un altro significato si riesce a capire che è un neologismo semantico no? cioè è un nuovo significato di qualche cosa che c'era già e c'è un capitolo appunto sulle metafore vabbè al tempo del covid quello della guerra però in tutto il libro si parla molto spesso di un nuovo significato o per metafora o per metodimia e ci ne vuoi parlare ancora un po' di questo? come fai a trovare gli esempi cioè come ti accorgi che è un significato nuovo? beh insomma è sempre l'uso naturalmente che se ne fa è un veicolo importante certamente costituito dai giornali ma dunque io in questo in questo libro cerco di per semplificare naturalmente di far capire quali sono i principi che stanno alla base della neologia e li riconduco a tre poi dopo vengo alla neosemia innanzitutto le lingue cambiano e su questo non c'è alcun dubbio anche perché se non cambiano fanno la fine io lo esemplifico del sanscrito o del latino classico anche se poi le lingue non muoiono mai perché una parte di queste lingue sopravvive comunque vero e nel caso del sanscrito sopravvive in tutta quella miriade di parlate che vanno dal Marate al Bengali eccetera eccetera e nel caso del latino naturalmente le lingue romanze quindi fatto che la lingua cambi diciamo non è da revocare seriamente in dubbio basta confrontare non so io un testo non so prendete il Decameron di Boccaccio i Promessi Sposi e poi prendiamo non so io se è una notte d'inverno un viaggiatore e vi accorgerete di come e di quali cambiamenti siano intervenuti nella stessa lingua letteraria ecco ma basta semplicemente ascoltare una non so io un nipote un nonno che parlano e vi accorgerete che l'approccio alla lingua è diverso però il fatto che le lingue cambiano non vuol dire che questo cambiamento come dire va all'infinito e che è radicale perché esiste una autodifesa della lingua che rallenta il cambiamento ma se voi non so io assistete ad una ad un dialogo tra ragazzi e persone anziane quindi persone di generazioni diverse vi accorgerete che il linguaggio è diverso ma che comunque comunicano che vuol dire che il concetto della lingua in sincronia è un concetto da rivedere perché la sincronia propriamente detta intesa in senso totale non esiste nel senso che la lingua media di una certa epoca è il risultato non so io di incrostazioni storiche che poi come dire determinano certamente alcuni cambiamenti ma determinano anche una stabilità di fondo poi però c'è diciamo un terzo principio in cui io dico che quando una lingua ha bisogno di una parola se la prende non c'è niente da fare o l'adatta o vi si adatta e così come non so per esempio io da beefsteak noi abbiamo avuto bistecca ma anche i giapponesi da beefsteak hanno bisu teki cioè a un certo punto si adatta e la la parola si adatta viene adattata e viene comunque presa su però c'è un corollario che io identifico con quella che chiamo la terapeutica verbale nel senso che quando una lingua come dire ha bisogno di una parola o di derivare una parola da un'altra per esempio un aggettivo da un sostantivo ecco in questo caso prende da un'altra lingua ma io faccio esempio dell'italiano del francese ecco i francesi sono un pochino più come dire sciovinisti che non gli italiani e sono molto attenti a assumere i neologismi cioè ad assumere i foresterismi dall'inglese o da altre lingue e però i francesi con tutta la loro spocchia ecco quando devono derivare da chemin de fer un aggettivo sono costretti a desumalo all'italiano prendono ferroviario e hanno ferroviere perché da chemin de fer non possono derivare un aggettivo ma questo capita anche non so in altre lingue anche col tedesco il tedesco non so per esempio per dire centro a middle punto e però prende centrum anche in concorrenza perché da middle punto non deriva un aggettivo ma da centrum deriva central centralisiren ma questo vale anche per non so io telephone e per harmony in concorrenza con altre parole proprio perché a partire da queste parole possono derivare gli aggettivi quindi il problema della neologia io lo delineo così poi certamente come si formano i neologismi anche qui ci sono c'è un capitolo così che analiticamente prende in esame diverse situazioni ma venendo alla neologia semantica ecco ma questo meccanismo come dire storicamente ricorrente negli anni sessanta Pasolini per esempio comincia a coniare parla di palazzo conferendo a palazzo un significato aggiuntivo supplementare non è solo un edificio importante magari un edificio storico ma diventa il luogo del potere De Mauro poi ci dice che Pasolini questa parola questo significato aggiuntivo non sarei inventato del tutto perché guarda caso ne aveva già parlato nei ricordi niente meno che i giardini e De Mauro ci cita proprio come dire il passo ma poi le parole sono tante che acquisiscono un significato diverso la parola anche italiano di base o meglio per essere precisi come dice De Mauro di alta disponibilità la parola cucchiaio diventa poi il cucchiaio alla totti cioè a dire questo tiro per esempio su un calcio di rigore smorzato che dopo aver spiazzato il portiere in direzione centrale va a finire nella rete ma poi c'è stato un significato estensivo di questa parola e quindi non so si può dire beh insomma quando era stato quando la Juventus qui siamo a Torino e tutti capiscono ha assunto Pirlo come come allenatore e dice ecco sì la Juventus ha fatto il cucchiaio prendendo Pirlo ha fatto il cucchiaio alle altre squadre ma poi questo questo significato è stesso anche all'ambito della politica abbiamo fatto il cucchiaio ai paesi frugali ecco si dice ma ancora per esempio e poi chiudo prendete il termine Movida ecco Movida è una è una parola che in Italia è stata importata negli anni 90 e perché in Spagna si diffonde negli anni 80 dopo il franchismo Franco è morto nel 75 se ben ricordo ed è però quel clima gioioso di rinnovamento intellettuale di creatività artistica che potete cogliere leggendo non so al moneta grandeste per esempio l'età di Lulu ecco vi accorgete di quale fosse il clima della Spagna in quel periodo che voleva dimenticare le brutture del franchismo questo termine poi come dire si diffonde via via con un significato esteso e quindi sostanzialmente gli dizionari italiani perché negli anni 90 che viene assunta in italiano ecco traducono con animazione ecco poi nell'epoca soprattutto della seconda fase del coronavirus in Italia ecco e forse solo in Italia questo è da verificare assume una connotazione negativa nel senso che comincia a identificare quel comportamento serale che si arricchisce anche di aggettivi come mala quindi mala movida movida la forma di sostantivo come dire la movida femminile ecco quindi in Italia assume poi questo significato negativo che in altri contesti probabilmente non ha che forse non ha in Spagna ma questo sarebbe da verificare io vorrei ancora chiedere a Canfora una cosa sul latino forse più da storico da storico e da latinista cioè esistono questi internazionalismi alcuni parlano di internazionalismi anche se la cosa è un po' discussa e si dice che quando una parola inglese o comunque straniera ha un'evidente radice latina la accettiamo meglio no? la accettiamo meglio che di computer eccetera eccetera però ritornando al discorso di prima il fatto che ci arrivi dall'inglese ha un suo valore voglio dire che non può farci dimenticare vabbè c'è la radice latina poi però la pronuncia non è la stessa e io personalmente ho studiato il numero di latinismi che sta nei dizionari monolingui stanno nei dizionari monolingui italiani rispetto a dizionari monolingui spagnoli rispetto a dizionari monolingui inglesi e ce n'è decisamente una quantità minore sia in quelli spagnoli che in quelli inglesi quindi il concetto di parola latina nelle lingue cambia anche nelle lingue romanze no? c'è un diverso atteggiamento nei confronti di questa eredità latina secondo lei prendiamo queste cose che ci arrivano dall'inglese ma con un significato un significante che deriva dal latino meglio oppure no? questo non saprei dovrei fare un'indagine che non non so a quale risultato mi porterebbe pensavo quando lei ha intrapreso a formulare la domanda a un altro fenomeno e cioè il latino che entra addirittura in una lingua più forte cioè il greco perché da un certo punto in avanti il greco di epoca imperiale romana o addirittura successiva prende concetti e quindi parole corrispondenti a fatti tipici della realtà romana per cui si può persino trovare la traslitterazione greca di alcuni termini che talvolta sono tradotti metaforicamente non so per esempio console consul iupatos oppure praetor praetor che diventa strategos ma in realtà sono due parole diverse due cose iupatos fra l'altro vuol dire uno che sta molto in alto altissimo e superlativo sarebbe iupsistos addirittura mentre strategos è una carica militare più o meno in quasi tutte le città greche che avevano magistrati di quel tipo mentre il praetor in origine viene da pra o pre itor quello che va davanti che guida quindi delle truppe ma poi il praetor ha altre funzioni il praetor urbanus per esempio presiede il tribunale eccetera però in alcuni autori greci di epoca più tarda troviamo addirittura la traslitterazione di queste parole latine tecniche in greco e in epoca bizantina illustrios è un grado della gerarchia molto sottile molto articolata bizantina intorno alla corte ma illustris è una parola latina che diventa illustrios in greco quindi paradosso perché la lingua latina diventa una lingua letteraria molto dopo il greco anzi si costruisce traducendo dal greco e invece per ragioni storico-politiche a un certo punto è essa stessa che esporta in greco termini che sono tipicamente latini questo quindi semmai il fenomeno al quale io posso guardare con un minimo di conoscenze è questo quello riguardante altro non so lei diceva che accettiamo parole inglesi perché hanno una radice latina evidentemente sì lo credo senz'altro sulla fiducia mi veniva in mente tutt'altro cioè che per esempio per ragioni di carattere anche quella volta politiche di autarchia che poi bisognava dire autarcia a rigore fu detto autarchia durante il fascismo dopo le inique sanzioni però siccome il verbo greco è archeo col k k epsilon omega l'equivalente italiano avrebbe dovuto essere autarcia però diventò autarchia e pace durante questa vampata diciamo di nazionalismo suscitato da molte cause ci fu anche un duplice fenomeno quello più buffo diciamo più immediato di cacciare alcune parole non so chauffeur si diceva chauffeur autista autista che a noi oggi sembra quasi un termine allarmante sul piano medico psicologico e invece in realtà un signore che guida l'automobile per conto di un altro o perché subalterno o perché lo fa per mestiere autista e va bene ma qualche tempo prima delle iniqui sanzioni quando noi occupammo militarmente e cercammo di snazionalizzare il Sud Tyrol chiamandolo Alto Adige dopo la prima guerra mondiale volevamo non so più quante colonie francesi che però non potevamo avere perché anche la Francia aveva vinto la guerra ci scatenammo sul fronte sul versante austico quindi ci impadronimmo di Bolzano Bellino tutta la zona Brixen cioè Bressanone e ci inventammo una serie di parole di toponimi imposti ad un po' una popolazione che parlava tedesco magari un po' patois insomma parlava tedesco talvolta con elementi di ridicolagine non mi so Castelruth diventò Castelrotto va bene però ha nulla a che fare con se non una vaga assonanza ecco quindi questa nazionalizzazione dei toponimi rientra un po' in questo antirivieni se mai accadesse ma credo sia improbabile che il cancelliere Kurz ormai ex cancelliere che già voleva sbarrare il Brennero per non avere i migranti occupasse a sua volta come fece il Führer durante la Repubblica Sociale l'Alto Adige ripristinerebbe i toponimi tedeschi va bene però questo non è nell'ordine delle previsioni possibili assolutamente un tema invece che mi aveva molto colpito dell'iniziale impostazione ed esposizione era quello che per gli studiosi della lingua latina è importantissimo e cioè il recupero di volgarismi in epoca tarda quel bellissimo libro di Hoffman Latains Umgang Sprache che studia esattamente questo fenomeno ma in certo senso un precursore di questa mescolanza diciamo così di arcaismo e volgarismo molto precoce fu niente meno che lo storico Sallustio che veniva un po' dileggiato da chi non lo apprezzava proprio Asinio Pollione Ottaviano ladro di parole lo chiamavano ladro di parole del vecchio catone perché pesca nel linguaggio del vecchio catone censore tipaccio da non frequentare naturalmente un lessico che era completamente arcaico de modè mescolandolo con volgarismi questa mescolanza piacque molto in epoca frontoniana parlavi di frontone il quale forse è uno dei benemeriti che hanno contribuito al salvataggio dell'opera di Sallustio che magari sarebbe persa come tantissime cose si sono perse perché era apprezzata per questa abilità linguistica peculiare unica sua che per esempio faceva impazzire di gioia concetto marchesi che era un adoratore di Sallustio anche per queste ragioni e questo è un fenomeno che potrebbe credo io essere studiato anche in altre lingue fuori della lingua latina come credo si deduca da quell'ultimo paragrafo che lei citavano c'era un termine che non ho capito quale sia cazzimma che non so cosa voglia dire però devo immaginare che sia un volgarismo che entra nella lingua a significare non so che cosa ecco Sallustio ha a che fare con questo sì sì nel libro c'è addirittura la citazione di Pino Daniele all'inizio che però accoglie un significato che non è ancora evoluto verso il positivo sostanzialmente a proposito di latinismi ce n'è uno che genera confusione sostanzialmente il fatto che non si distingua genere grammaticale dal genere sessuale lo vogliamo chiamare così ecco tedeschi almeno hanno genus sono ricorsi a un latinismo e non non si però in inglese c'è questa cosa e è richiombata da noi la questione del gender no? Sì dunque come accennavo prima il termine inglese gender è entrato in italiano e si è sovrapposto al nostro termine genere che era usato con dei significati ben precisi quando succede tutto questo? Quando in in ambito statunitense viene esplicitato definito il concetto di gender inteso come genere socio-culturale che indica l'insieme di aspettative caratteristiche opinioni che sovrastano l'appartenenza al sesso maschile o al sesso femminile da parte della società ci sono diverse definizioni del concetto di genere però in sostanza poi tutte convergono su questo il genere maschile o il genere femminile indica ciò che la società ritiene che sia o che debba essere un essere di sesso maschile o di sesso femminile il termine gender è quindi entrato nella lingua italiana come genere e a questo punto ha dovuto confrontarsi con le due accezioni di genere già esistenti quindi l'una era genere grammaticale e l'altra era genere inteso come sesso perché genere e sesso in italiano sono stati tuttora vengono usati molto spesso con entrambi i significati ma l'inglese aveva anche sex quindi aveva sex e gender però anche in inglese gender risulta usato da un certo punto in poi come sex quindi diventa è una confusione quasi inenarrabile inestricabile alla quale bisogna fare molta attenzione specialmente quando in effetti si vuol definire quelle che sono le caratteristiche sessuali una persona la sua classificazione e quello che invece si intende come il suo comportamento il suo modo di fare il suo modo di pensare e così via in italiano come sappiamo il genere grammaticale comprende maschile e femminile se ci fosse il neutro tante questioni sarebbero state risolte ma il neutro non c'è non c'è più non credo che mai più ci sarà nonostante certi sforzi che ci sono in giro e non c'è da tempo immemorabile nella trattatistica grammaticale latina già si parla soltanto di due generi addirittura Prisciano dice che i generi sono due maschile e femminile i generi sono aggenerando i generi si chiamano così maschile e femminile perché fanno riferimento alla possibilità di generare è un'interpretazione di Prisciano per carità di Dio però insomma è sempre utile sapere che questa idea del rapporto fra un'indicazione grammaticale e quella che viene definita la realtà extralinguistica del sesso non è certo una novità non se ne parla ora e se ne parla anche in greco ovviamente e che ci siano due generi in italiano ci lo dice anche tutta la trattatistica grammaticale a partire dal cinquecento in poi a partire da più a partire anche da quattrocento addirittura Leon Battista Alberti a cui dobbiamo tante bellezze architettoniche ma anche tante bellezze linguistiche diceva che i genera duo sunt femminino e mascolino e quindi così siamo però per quanto riguarda la riflessione sul genere grammaticale oggi mi riferisco alla lingua italiana e su quello che significa la classificazione di un termine come maschile o femminile scorrono cascate d'inchiostro non fiumi cascate che purtroppo sono cascate che spesso prevedono delle pietre dei precipizi quindi si formano delle pozze in cui a volte la discussione annega una questione che viene posta più volte intreccia una serie di piani interpretativi del concetto di genere socio-culturale e del concetto di genere grammaticale un po' complessi soprattutto la convinzione che l'uso del genere maschile e dell'uso del genere grammaticale femminile non siano sufficienti per descrivere la realtà delle persone di oggi gli esseri umani di oggi è un'acquisizione tutto sommato abbastanza recente e si lega al concetto appunto di genere socio-culturale che non sarebbe definito per tutte le persone come il genere corrispondente al sesso in sostanza che sesso maschile o di sesso femminile non si riconosce immediatamente e nel genere socio-culturale maschile o femminile ma può ritenere di far parte di un altro genere oppure di entrambi i generi oppure di essere gender fluid quindi di accettare le caratteristiche di genere o maschile o femminile e per questo l'indicazione del genere grammaticale che automaticamente secondo questo tipo di interpretazione identificherebbe una persona di sesso maschile o di femminile con il genere rispettivo questo tipo di distribuzione una distribuzione che sta stretta che non va più bene questa è solo una delle interpretazioni perché in realtà i generi grammaticali nella lingua italiana sono stati rifiutati e criticati più volte e non solo perché indicherebbero automaticamente questo è il binarismo il genere socio-culturale maschile o femminile ma perché e questo viene criticato dalla filosofia femminista materialista francese soprattutto degli anni 70 70-80 perché la distribuzione maschile e femminile ricalcherebbe la distribuzione patriarcale della società quindi usando una lingua che è il maschile e il femminile dal momento che i due sessi sessi non sono alla pari ma uno sovrasta l'altro e l'altro quello femminile meno valorizzato accettare una lingua con due generi grammaticali implicherebbe accettare il patriarcato e c'è anche un passo avanti non solo il patriarcato ma anche la eterosessualità quindi sono piani diversi che convergono in questa critica a genere grammaticali tuttavia devo avviarmi suppongo alla conclusione di questa complicata descrizione però quello che mi premeva mettere in luce è che la discussione sul genere grammaticale e il genere socio-culturale non è l'unica appunto ce ne sono state anche altre e ce ne sono state anche alcune condotte molto seriamente tuttavia una delle proposte quella che circola di più sui cosiddetti social che consiste nel eliminare le desinenze grammaticali per sostituirle con un simbolo qualsiasi esso sia siamo passati da asterisco a et a schwa e anche alla desinenza u questa eliminazione delle desinenze grammaticali per una lingua che come l'italiano usa il genere grammaticale anche non solo con funzione classificatoria che è quella che gli è propria ma anche sul piano testuale e qui guarda la professoressa Garavelli dalla quale tutte e tutti abbiamo imparato tanto e il professor Beccaria dicevo questo tipo di soluzione in una lingua come l'italiano che usa il genere grammaticale per costruire nel testo quella invisibile serie di rimandi per la quale si capisce di chi si parla a chi si attribuiscono e si fanno e si riferiscono parole verbi eccetera non è proponibile perché avremmo tagliando questi riferimenti una specie di scheletro in cui le ossa sono semplicemente appoggiate per terra e non hanno più alcun riferimento alcun legame perché se in un testo muovo una parola a quella parola mi si legherà un aggettivo mi si legherà un rimando una ripresa non solo all'interno della frase che già sarebbe abbastanza ma tanto più all'interno di un testo e pertanto proposte come quelle che si vedono circolare e che secondo me sono proposte ingenue animate da ottima intenzione e da grande buona volontà avrebbero bisogno di fare come tutte le proposte sulla lingua la prova del nove che è molto semplice consiste nel chiedersi ma se lo faccio si capisce perché se la risposta è no evidentemente bisognerà trovare un'altra strada potrei continuare a lungo ma credo di aver preso troppo tempo grazie grazie a tutti grazie a tutti